Dario Marasca è il protagonista del match vinto contro gli Hammers dal fulmine, autore di 4 gol. Dici due parole su questa partita Dario. La festa è stata una bella partita, stavamo facendo recuperare come feste però alla fine abbiamo dimostrato la nostra superiorità e abbiamo fatto appunto questi due gol. Noi sono un po' sbilanciato e ne abbiamo segnato appunto. Ok, oggi mancava il vostro capitano Antonio Cardellino, è stata una cosa a vostro favore o no? La nostra volta non lo chiameremo più perché se noi vi portano un po' feste Cardellino. Speriamo anche la prossima volta che compriano del padre. Ok, quindi auguro al padre e in bocca al lupo alla prossima partita.